Minecraft è indubbiamente un gioco bellissimo, ma purtroppo è sempre mancata una piccola cosa che secondo me migliorerebbe di gran lungo il gioco. Avete presente che quando rompete la base di un albero per esempio, l'albero resta intatto, è volante soprattutto, cioè non ha senso. A Minecraft manca la fisica della vita reale. Se io rompo la base di un albero mi aspetto che quest'ultimo crolli in mille pezzi, perché ovviamente non può stare qua che vola, no? Ma per fortuna esistono le mod, ed è proprio per questo che ho aggiunto la mod della fisica. Non della fisica, nel senso quella che devi studiare a scuola, cioè proprio la fisica della vita reale. Per esempio, se io adesso rompo la base di questo albero, ovviamente nella vita reale cosa succederebbe? Che tutto l'albero collassa, perché non ha più il supporto in basso. Ecco, questo è quello che succede anche su Minecraft grazie a questo mod. Mamma mia! Ragazzi, se non lasciate un mi piace a questo video, io non so che cosa state facendo. Lasciate assolutamente un mi piace. Ovviamente questo funziona con tutti quanti i blocchi e anche con alcuni mostri. Cioè, sta roba è incredibile. Io potrei stare qua a spaccare alberi per un'ora, perché è troppo soddisfacente da vedere che proprio si distruggono e collassano pian piano tra di loro. La figata qual è? Che alcuni, cadendo, portano giù anche gli altri, perché il peso dell'albero che cade fa cadere anche l'albero vicino o le foglie vicino, visto? Cioè, ragazzi, dai, più iperrealistico di questo non c'è nulla. Guardiamo, per esempio, questa montagna. Sono veramente curioso. Che succede se rompo un blocchetto che supporta il tutto, tipo questo? Oh mio Dio! Cade tutto quanto e si frantuma e si sfracella giù. Ma è bellissimo? Ma è bellissimo! Lo fa anche qua? Sì. Cioè, io potrei rompere montagne su montagne e far cadere tutto adesso? Guardate! Crollano i blocchi! Fantastico! Allora mi è venuta un'idea. Allora, io sono uno scienziato pazzo, voglio fare gli esperimenti più strambi di Minecraft e quindi adesso sperimenteremo tutto. Ma allora, cioè, allora veramente me lo servisci un piatto d'argento? E che è sto canyon? Ma è bellissimo! Allora, prima di tutto prendiamo una torcia, così facciamo luce. Anzi, diamoci direttamente night vision, così è molto meglio. Utilizziamo i comandi. Cosa succede se io tolgo tutta questa base qua sotto, quindi da qua a qua, e io li elimino totalmente? Vediamo, questo è il comando che mi servirà per togliere tutta la base di pietra. 3, 2, 1. Ah, vabbè, mi aspettavo un po' meglio, sinceramente. Ok, là, vabbè, sta crollando tutto perché l'ho rotto io. Vediamo un po'. Ok, forse ho esagerato. Ho rimosso 2718 blocchi. Oh mio Dio, sta laggando! Sta laggando... Oh! È crollata tutta la montagna, sta laggando tantissimo! Ho esagerato, ne ho rimossi un pochettino troppi, forse. Ecco, infatti, mi sta crashando tutto il gioco. Si è stabilizzato? Sì. Ok, ho decisamente esagerato. Bellissimo, sembrano proprio le macerie, ragazzi, pietre che cadono dall'alto. Si sta frantumando tutto! Mamma mia! Ok, anche la sabbia, anche la sabbia, ovviamente. Sì, distruggi! E cosa succede se faccio uscire fuori l'acqua? Vediamo? Eh, l'acqua distrugge? No. Eh, ma è pieno di canyon! Ma che è la mia fortuna oggi? Vi giuro, ragazzi, che non l'ho preimpostato io. Guarda che figata! Vediamo che succede se scavo un po' di ferro. Oh mio Dio! Ma si è ingigantito tipo di duemila! È diventato enorme il ferro! Va bene, mi ridà tutto indietro. Scaviamo anche questo, già che ci siamo. Uh, sento dei mostri! Facciamo così. Allora, mi prendo una bella spada e vediamo che succede se ammozzo i mostri. Ciao, ragnetti! Morite, ragnetti! Ho detto morite! Oh mio Dio, no! Vedo l'interiora! Che schifo! Rompiamo anche il blocco di spawn. Ok, si distrugge con la fisica. Benissimo. Ai 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 ai, che male. No, ragazzi, guarda, esplode! Esplode e riesco a vedere l'interiora. Che schifo! Che schifo! Ok, abbiamo anche l'oro. Oh! Cavolo, devo stare attento perché se scavo un blocco sulla mia testa poi mi cadono tutti gli altri addosso. Vediamo che succede con l'esplosione di un creeper. No, vabbè! È bellissimo! È bellissimo con l'esplosione del creeper! Ma perché Minecraft non può essere così? Quanto sarebbe più bello? Secondo me sarebbe una figata pazzesca, però... Ah, il problema è sempre quello, perché non tutti hanno un buon computer per reggere una grafica così. E quindi ad alcuni lagherebbe. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Il carbone? Anche questo... Eh, distrugge tutta la montagna. Fighissimo! Allora, 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 allora. Andiamo alla ricerca di qualche diamantozzolo. Ci sono dei diamanti... Eccoli qua! Bene. Vediamo? Uh, che figata... Eh... Li ho bruciati? No! Sono miei. Quelli li ho bruciati. Quelli li ho sicuramente bruciati. Oh, mio Dio! Sto creando un casino! Oh! Crolla anche il tetto! Ok, quattro diamanti. Bene, non li ho bruciati tutti, se non altro. Voglio fare un altro test. Qual è un mostro che crea distruzione e spazza via tutto il mondo di Minecraft? Beh, il Wither. Quindi, evochiamo il Wither. Vediamo che fa. Vai e distruggi. Ma che è? Sei rotto, sei baggato. Wither! Ho detto vai e distruggi. Ecco, adesso ci siamo. Uh! Dai, sei in pole position. Tre, due, uno. Spacca tutto! È impazzito! Guardate, ragazzi, che figata! Oh, mio Dio! Che cos'è successo? Allora, aspettate, riproviamoci. Adesso sì. Ora sì che ti riconosco, piccolo Wither. Guarda là, va in giro. Distrugge tutto quanto. Come una piccola trottola. Bravo! Spazzuma via tutto quanto il mondo. Ammazza i maialini. Che non ti hanno fatto niente. Oddio, è diventato prosciutto. Oh, mamma mia. E che fai? Non gliela dai un'occhiata al land? Ma certo che gliela diamo. Allora... Uh, devo fare attenzione, è vero. Cavolo. Rompendo i blocchi rischio di rompere tutto. Fermi. No, 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 no. Oh, mio Dio! Il sangue di Silverfish. Che schifosi. Ok, piazziamo gli Ender Eye. Tun, tun, tun. Boom. Benissimo. Ok, vediamo cosa succede quando il drago passa tra una torretta e l'altra. Eh, perché il drago lo fa spesso. Soltanto che qua rischi di rovinarti tutto quanto, perché tu la rigeneri grazie a quelle torrette. Se le rompi... Eh, sei un cretino se le rompi. E soprattutto quando lo uccideremo il drago esploderà in mille pezzi. Proviamo a rompere direttamente una torretta da noi. Vediamo. Ok. Non è successo nulla. Chissà, forse l'ossidiana non si può rompere. Vediamo. Ci passa attraverso? No, ancora non c'è passato attraverso. Forse è passato attraverso quella? Vediamo. Sì. No, l'ossidiana mi sa che non si può rompere. Se io rompo tutta la base dell'ossidiana, crolla sta torre. Eh, dovrebbe, dai. Allora, ragazzi, sto cercando di rompere tutta quanta la base per vedere se poi la torre crolla, ma mi sa che con l'ossidiana non funziona. Resta volante. No, ma che peccato. Speravo vivamente che crollasse tutto. Sarebbe stata una figata pazzesca se fossi riuscito a far crollare la torre diossidiana. Mazza, che laggata. Credo di aver rotto qualcosa che non dovevo rompere. Sta laggando tantissimo. Ok. Uh. Sono morti tutti gli Enderman. Perché? Ah, comunque così è proprio facile uccidere il drago, se devo essere onesto. Dai. Dai che manca poco. Boom. Vediamo un pochettino. No, si disintegra. Non esplode, quindi? Ma che cavolo. Speravo che esplodesse in mille pezzi come gli altri animali. E che succede se rompo questo? Oh. Ho disintegrato l'uovo. Oh, cavolo. Vabbè, dai, usciamo. Ah, ho dimenticato di farvi vedere una cosa, ragazzi. Volete vedere gli scaffolding che cadono dal cielo? Siete pronti, eh? Ne piazzo tanti. Guardate. Questa è una bella torre di scaffolding. 3, 2, 1. Distruggi. Eh? Eh, questo è soddisfacente. Questo è soddisfacente. Beh, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se così è stato. E consigliatemi qua sotto qualche altra cosa da distruggere con questa mod. Così magari potrei fare un secondo episodio. Al vostro Kendall è tutto. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Intanto il Wither la distrugge tutto. Vabbè, continuo pure. Ciao!